Ripartire dal meeting di Rimini, mentre gli occhi del mondo politico sono su Roma, sul Quirinale e sul Senato dove il Premier Giuseppe Conte vivrà martedì, il giorno più difficile del suo governo, la Presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati sceglie la Fiera, una visita istituzionale per l'apertura dell'edizione 40, cominciata dal padiglione dell'area sussidiarietà e lavoro. Due temi centrali questi anche nel suo discorso in auditorium, con essi la famiglia, i corpi intermedi, un'educazione libera, tutti luoghi in cui può passare uno sguardo nuovo sulla realtà. Io credo che oggi si debba investire molto su questi temi, sulla famiglia per esempio che vive un dramma epocale, che è l'inverno demografico, perché un paese che non procrea è un paese che è destinato al presente, che non ha prospettive verso il futuro. La giornata di Casellati al meeting però non è solo il palco e i discorsi ufficiali, sono le strette di mano con la gente, i dialoghi e le mostre, il potere dei senza potere e Vaclav Havel, l'incontro tra Francesco e il sultano, la compassione del mondo musulmano. Qui c'è l'esempio di come si lavora, si produce, la formazione, le varie iniziative, è un mondo che si apre alla speranza, nel senso che non c'è soltanto l'idea del presente di quello che si fa, ma c'è questo respiro verso la programmazione futura. Devo ringraziare perché è stato un invito che mi ha dato molto, mi ha arricchito molto.